Sì, Montalbano e Licona è già stato Borgo Più Belli d'Italia nel 2015 e come borgo più votato in assoluto in tutte le edizioni del Borgo dei Borghi è stato ripescato dalla RAI e dall'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia proprio per questa nuova edizione. È un'edizione speciale, un'edizione straordinaria del Borgo dei Borghi chiamata La Grande Sfida, proprio perché Montalbano sfiderà altri 59 borghi. Questi 59 borghi sono suddivisi in tre gruppi. Montalbano fa parte del gruppo B. Per votare bisogna andare sul sito della RAI, Borgo dei Borghi scegliere gruppo B e vota Montalbano e Licona.